Mi scuso innanzitutto per questo atto di scortesia protocollare, il Ministro parlerà dopo di me ma credo che tutti voi siate d'accordo con me sul fatto che è terminato questo brevissimo saluto io torno immediatamente a Roma perché l'incidente ferroviario in Puglia è un incidente che purtroppo ha causato delle vittime il Ministro del Rio e il Capo della Protezione Civile stanno andando lì con il Presidente della Regione e di conseguenza credo che sia assolutamente doveroso da parte mia tornare immediatamente a Roma ci tenevo però innanzitutto a esprimere ovviamente anche a nome vostro tutto il cordoglio alle famiglie e dall'altro lato l'assoluta richiesta senza alcuna sconto di capire chi sono i responsabili di questo incidente che cosa è accaduto perché penso che sia una vicenda sulla quale fare totalmente chiarezza non ci fermeremo finché non sarà chiarito ciò che è accaduto naturalmente adesso è il momento della commozione delle lacrime e in queste ore prosegue il recupero dei feriti quindi è un momento particolare di conseguenza tutta la parte sugli impegni del Governo rispetto alle questioni della fisica, della scienza e del grande investimento su Milano su questo museo caro direttore Galli e in generale su questo settore lo farà dopo di me Stefania Giannini io ci tengo, ci tenevo e ci tengo a non soltanto rappresentare un elemento di gratitudine verso Fabiola e verso tutti coloro i quali con il loro impegno personale dimostrano che l'Italia è una straordinaria terra per scienziati, terra per innovatori, terra per persone che vivono la ricerca il gusto della ricerca e della sperimentazione, dell'innovazione e vorrei dire che lo è particolarmente Milano, lo dico davanti al sindaco con il quale abbiamo lavorato fino a poche ore fa insieme sui progetti principali, lo dico al Presidente della Camera di Commercio all'assessore, agli assessori regionali che sono qua, lo dico consapevole del fatto che questa terra è una terra che può oggettivamente essere il punto di riferimento del mondo di domani in termini di appeal, di richiamo, di forza è quello che da un liceo classico milanese Fabiola Gianotti ha dimostrato di poter fare saranno state le visite alle quali la costringevano in questo museo è quello che insieme a Nando Ferroni stiamo cercando di fare a livello nazionale come istituzione nazionale ammetto di non essere minimamente in grado nonostante le ripetizioni private che ho avuto da cotanto spessore di capire assolutamente niente di fisica quello che ho capito è che l'Italia è il leader e che non soltanto richiamandosi al passato di Amaldi ma lavorando e investendo sulle professionalità che abbiamo toccato con mano al Gran Sasso, che abbiamo toccato con mano al CERN che abbiamo toccato con mano a Chicago, fuori Chicago nel Fermi Lab ci rendiamo conto che siamo una realtà che può essere davvero punto di riferimento assoluto nel mondo questo museo oggi apre una sezione che potrà portare tante ragazze e ragazzi ma anche persone più esperte a tornare a innamorarsi della curiosità della ricerca, della scienza, della intelligenza e della bellezza del cervello dell'uomo credo che sia doveroso da parte del governo insistere su queste tematiche e credo che sia particolarmente importante farlo in questo momento qua e farlo a Milano ecco perché ci tenevo ad essere con voi mi sarebbe piaciuto anche festeggiare con il taglio del nastro insieme credo che appreziate tutti il fatto che questo taglio del nastro che deve essere il più comunque felice possibile per il grande lavoro infatti lo farà a nome mio insieme a voi il ministro dell'università della ricerca quello che penso di poter dire rappresentando penso l'opinione di tutti è che l'Italia è un grandissimo paese meraviglioso e affascinante nei momenti di dolore e di difficoltà e lo è anche nella capacità di stringersi intorno a chi in questo momento sta vivendo l'ora più dolorosa della sua vita chiuderemo però a dirvi in ogni caso cara Fabiola e cari tutti voi dovete sapere che il governo italiano è dalla vostra parte perché l'epoca in cui sulla ricerca si scherzava sulla scienza si scherzava ed era l'epoca d'Italia è finita per sempre noi pensiamo che in questo vostro settore si giochi non un pezzettino delle vostre aspettative per il futuro si giochi un largo pezzo del futuro del paese e siamo certi che faremo tutti la nostra parte in questa direzione direttore complimenti ancora e mi saluti il presidente complimenti e buon lavoro grazie di cuore viva l'Italia sempre e comunque grazie